Nel corso della notte un gruppo di cittadini extracomunitari ha dato vita a una furiosa rissa in strada in via Garibaldi a Corsico. Oltre a picchiarsi e ferirsi, gli uomini stavano distruggendo la zona tentando di sradicare pali e grondaie. Alle preoccupate chiamate dei cittadini sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corsico, supportati anche da quelli di Cesano Boscone e Buccinasco, oltre che dalla radiomobile della compagnia di Abbiategrasso. All'arrivo dei militari in assetto di urgenza con lampeggianti blu e sirene accese, la rissa è sparita. Sul posto non vi erano più testimoni, c'erano però due uomini di nazionalità nordafricana che erano feriti, avevano diverse lesioni e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che dopo le prime cure sul posto li hanno portati ai pronti soccorso degli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano. Durante l'identificazione avvenuta tramite il sistema digitale Interforze 1 è risultato essere un uomo di nazionalità marocchina di 36 anni destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. Dopo la dismissione dal pronto soccorso è così stato portato al CPR per il completamento della procedura. Anche l'altro ferito è di nazionalità marocchina, ha 24 anni ed è in Italia senza fissa dimora. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno fermato anche un terzo uomo della stessa nazionalità, trentenne, che non era coinvolto nella rissa. Tuttavia era ricercato perché destinatario di due ordini di carcerazione cautelare emessi dal GIP di Varese è stato quindi accompagnato al carcere di San Vittore a Milano.